Torino all'avanguardia, anche al centro commerciale. Sono attivi i totem di Torino Facile per abbattere le barriere della burocrazia puntando sulla tecnologia. Alla Galleria O'Shane di Torino, per la prima volta in Italia, chiunque tra i 5 milioni di persone che ogni anno popolano il centro commerciale potrà richiedere un certificato di nascita o di residenza. Così, mentre si fa la spesa o prima di andare dal parrucchiere o passando per lo sportello della banca, da oggi la città di Torino e la grande piazza della Galleria O'Shane offrirà un altro servizio innovativo che ha l'obiettivo di rendere la vita più semplice in una logica di collaborazione tra pubblico e privato. Il protocollo di intesa sottoscritto dalla città di Torino, O'Shane S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia S.p.A. consentirà ai clienti dell'ipermercato di poter accedere, attraverso postazioni self-service ad uso gratuito, ai servizi telematici della città. Inoltre, grazie a questo accordo, i dipendenti delle due società avranno l'accesso alla rete Torino facile. Una volta per fare un documento anagrafico si diceva prendo un giorno di ferie perché devo andare all'anagrafe. Adesso non è più necessario perché con iniziative come questa, cioè la collocazione di macchine in vari centri della città a cui un cittadino può facilmente accedere e farsi immediatamente il certificato rendiamo la vita più semplice e più facile ai cittadini. In un momento di contrazione di risorse pubbliche noi dobbiamo sviluppare modalità innovative di rapporto tra pubblico e privato. Questo è stato fatto. Faccio sempre una battuta e dico pensate a quante risorse avremmo dovuto investire per assumere 10 persone in più da mettere allo sportello dell'anagrafe che dirigo. Noi abbiamo investito due ordini di grandezza inferiore per mettere un totem di questo tipo. Questa è la risposta migliore, più concreta che noi possiamo dare a chi si interroga su a cosa serve una realtà come il CSI Piemonte che in questo periodo è una domanda che circola molto negli ambienti della città di Torino e della regione Piemonte. Di fatto se vi ricordate la metafora che si dice sempre che il cittadino deve girare con il fascicolo di carta tra tutti gli uffici pubblici, comuni, regioni, agenzie delle entrate noi abbiamo fatto in modo che questo non sia più necessario perché la persona viene in questi sportelli oppure anche via internet e anche con i propri cellulari e lì trova tutti i servizi pubblici dei vari enti.